A trovarci negli sui radiofonica.com il professor Eric Conte del Dipartimento di Scienze Agrarie che oggi ci spiegherà un evento dedicato agli studenti che stanno arrivando a Perugia ma anche a chi è un po' più piccolo. Stiamo parlando di Scienza, Arte e Territorio a San Pietro. Non è la prima edizione. Di cosa si tratta? Allora, dedicato sì agli studenti, ai più piccoli ma anche ai grandi, nel senso che dedicato veramente a tutti. Questa è una vera e propria evoluzione rispetto agli Open Days che abbiamo iniziato nel 2015 e tanto è vero che abbiamo cambiato nome. Adesso si chiama A San Pietro, Scienza, Arte e Territorio. Noi a San Pietro, Basile di San Pietro, come voi ben sapete, abbiamo una concentrazione di opere d'arte però abbiamo anche l'attività scientifica che è quella del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali. E oltretutto questa struttura insiste su un territorio che è importantissimo, un territorio che è il quartiere di Rione San Pietro ma se facciamo un discorso storico, tornando indietro nel tempo, è anche un po' tutto il contado che fa riferimento a Porta San Pietro. Quindi noi abbiamo, e il territorio tra l'altro, è anche rappresentato dallo stesso quartiere che è frequentato dagli studenti, che vivono lì, che mangiano lì e che studiano lì. Quindi noi abbiamo messo insieme Scienza, Arte e Territorio e abbiamo organizzato visite guidate, visite ai laboratori dedicate agli adulti ma anche visite dedicate ai bambini e questa è la novità rispetto agli anni precedenti. Abbiamo organizzato dell'esposizione scientifica al secondo chiostro, il chiostro del Pozzo. Abbiamo, sempre nell'ambito scientifico, una novità che abbiamo quest'anno. Ci sono degli agronomi, degli esperti di arboricoltura che si arrampicheranno su un albero secolare nell'orto medievale praticamente in tutta sicurezza con delle funi e in questo modo faranno delle dimostrazioni di come ci si arrampica sugli alberi per curarli, per potarli e così via. Sempre in tematiche scientifiche abbiamo, per esempio, una fattoria didattica e così via. C'è un programma abbastanza lungo, completo, che è disponibile online e sempre nelle tematiche scientifiche abbiamo un argomento che è molto importante per quest'anno che è quello delle registrazioni degli eventi sismici. Abbiamo, infatti, l'osservatorio sismico al secondo chiostro che sarà visitabile con visite guidate. A proposito degli eventi sismici, quest'anno abbiamo organizzato una tavola rotonda a cui parteciperà anche l'assessore regionale Fernanda Cecchini e in questa tavola rotonda i colleghi insieme all'assessore insieme ai tecnici della regione cercheranno di definire quelli che sono gli obiettivi futuri della ricostruzione ma anche quello che è il futuro della zootecnia nelle zone terremotate. Per ora stiamo parlando soltanto della scienza. rimane ancora l'arte e il territorio. E allora da questo punto di vista proprio ti volevo chiedere che cosa c'è, che cosa offre? Luoghi tendenzialmente dedicati appunto all'accademia si aprono in realtà alla cittadinanza per mostrare la loro bellezza. Esatto. Quindi si apre la cittadinanza per mostrare le bellezze e fra queste la novità di quest'anno sicuramente è la riunione dei capolavori del Sassoferrato grazie anche all'acquisizione per un periodo di alcuni mesi di questa importante pala l'Immacolata Concezione Sassoferrato che insieme alle altre opere recuperate fanno un totale di 17 opere riunite lì a San Pietro e in occasione degli Open Days sarà possibile un accesso a tariffa ridotta per un orario allargato e continuato. E non c'è soltanto questo ci sono tante altre bellissime opere molto importanti da vedere nella Galleria. Se parliamo dei tesori d'arte di San Pietro parliamo della Basilica parliamo dell'Abbazia ci sarà il nostro Abate che si è concesso anzi ha dato questa disponibilità quest'anno per guidare i visitatori e quindi i visitatori potranno soffrire di una guida eccezionale che sarà aiutato in parte da alcuni studenti che sono offerti volontari. Dall'anno scorso abbiamo cominciato a sperimentare la musica è andata molto bene quest'anno addirittura abbiamo avuto l'adesione del Conservatorio quindi ci saranno gli artisti del Conservatorio che verranno a suonare da noi e anche della scuola Art Music ci saranno degli artisti, direttori e alcuni studenti della scuola Art Music che verranno a suonare nei chiostri e non è finita perché poi abbiamo anche un orto medievale e l'orto medievale dal nostro punto di vista un'opera d'arte l'abbiamo inserito nel percorso arte avremmo potuto inserirlo nel percorso scienza avremmo potuto inserire nel percorso territorio abbiamo scelto questo territorio e non è finita perché abbiamo anche il percorso territorio e nel percorso territorio cosa ci aspetta? ci aspetta il mercato che organizziamo dall'inizio dalla prima edizione questa è la quarta l'ho chiamato mercato in realtà è una vera e propria esposizione di eccellenze umbre eccellenze agricole eccellenze dell'artigianato e nell'ambito di queste di queste esposizioni sarà anche possibile seguire a pagamento dei brevi corsi quest'anno i corsi sono stati organizzati su due tematiche la tematica i cesti e l'arte dell'intreccio ovvero fare praticamente il visio d'autorio può costruirsi il suo cesto in Vimin impara come farlo e poi se lo porta via oppure la bottega di Geppetto possiamo immaginare che si tratterà è molto evocativo esatto esatto e quindi è inutile parlarne sempre nell'ambito della tematica territorio bisogna ragionare in termini di orti urbani e allora abbiamo collega che ci porterà che porterà i visitatori a visitare gli orti urbani del quartiere Borgobello poi dovremmo parlare anche della tematica territorio più allargato dove dobbiamo includere anche il contado e in questo caso ovviamente mi rifaccio a un discorso storico e in questo caso se consideriamo il rione Porta San Pietro e tutto l'antico contado ecco che allora sapete che ci sono intanto delle rievocazioni storiche e noi avremo una rappresentanza del magnifico rione di Porta San Pietro che porterà anche degli standardi e ci saranno in rappresentanza in costume come il capitano e l'alfiere del rione ok e poi concludiamo tutto spiegando al visitatore che o all'arrivo o alla partenza per Perugia può passare per Casalina Casalina rappresenta una delle due rocche del territorio e ancora appartengono alla struttura al monastero ovvero a ciò che è la proprietà del monastero che è la fondazione per istituzione agraria e li potranno a Casalina la rocca di Casalina ovvero agli annessi che stanno nella parte della pianura dove c'è l'azienda agraria di fatto potranno visitare i musei scientifici del CAMS io devo dire che il professor Conti è stato super esaustivo veramente non poteva riassumere meglio in così poco tutto il contenuto di queste due giorni non ci resta che ovviamente darvi appuntamento il 6 e 7 maggio direttamente alla facoltà Dipartimento di Agraria alle 10 per l'inaugurazione più di circa Как uno un'area di anima gli insertero belli